E' già in ritardo, questo marca male, no no, non va bene. 3 minuti di ritardo, non va bene. Eh, scusi, non ho fatto la posta, scusi, scusi. Allora, facciamo subito una domanda, quanti sono i saccamenti? Eh, aspetti un attimo. Dai, ti voglio aiutare. Quante sono le persone della Trinità? Eh, quindici. Ma come fai a sapere queste cose? Sono le basi per essere un prof di religione. Sono desolato, non so cosa dire. Sono domande troppo difficili. Come mai sei presentato? Per questo lavoro ci vuole impegno e dedizione. Eh, ma io sono un informatico. Sono appassionato di Apple, computer, Mac. Che bello. Purtroppo non trovo lavoro da informatico e quindi mi accontento anche di insegnare religione. Ah, ma quindi ho capito bene. Sono appassionato di Apple. Beh, certo. Io sono un collezionista. Ho tutti i Mac da 1984 fino a quello del 2015. Complimenti. Assumo subito. Ma siiii, è arrivato. E' solo stato assurdo. Vieni. Lazzaro, vieni. Le farò delle domande più difficili perché un candidato è già stato assunto e rimanete solo in due e devo scegliere il più bravo. Sì, sono pronto. Bene, iniziamo subito. Quando è stato il primo concilio ad Acquisgrana? Beh, questo è stato sicuramente nel 798 d.C. Molto bravo. Mi complimento con lei. Passiamo alla seconda domanda. Qual è il nome del 49esimo Papa? Beh, ovviamente San Gelasio I. E' letto nel 492 e morto nel 496. Molto bene. Avendo molto preparato. Ma perché hai deciso di insegnare religione? Beh, io in realtà avrei voluto insegnare storia italiana. Però ho tutte le catedre non occupate. Quindi il mio amore per l'insegnamento mi spinge a insegnare anche religione. Ah, quindi insegnare religione per lei è solo impiego? Grazie allo stesso, le farò sapere. Grazie per la possibilità. Allora, l'ha preso. Non so. Vedete, vedete. Vedete. Morganti! Morganti! Buongiorno! 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 E farò qualche domanda un po' difficile per testare le sue conoscenze. Mi dica il 24esimo versetto del capitolo 12, Giovanni. Dovrebbe essere. Dovrebbe essere. In verità, in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore e rimane solo. Se invece muore porta molto frutto. Molto bene, mi congratulo con lei. Seconda domanda. Sì. Quanti chiodi usano mai per costruire arca? Questa è una domanda tra bocchetto. Mille non più mille! Giusto! Molto bene, molto preparato. Grazie. Ultima domanda. Perché vuole fare prof di religione? Guardi, è una cosa che desidero proprio da quando sono più o meno così. Ho conosciuto la mia prof delle medie e ho detto io voglio proprio diventare come lei. E eccomi qua, insomma, ho studiato. Molto bene, molto preparato, motivato. Grazie. Dove ho fatto il liceo? Io ho fatto il liceo biologico a casa Pusterlengu, ho fatto 5 anni di università. Poi mi sono iscritto a scienze religiose. Scusi. Sì, mi sono a telefonosale, è mia moglie che è finta che mi ha fatto rire. Pronto? Sì? Per cui penso proprio a mio occhio di spunto. Adesso si tratta proprio di firmare. Ok, pronto ti saluto e adesso quando torno, ciao. Sì, sì, puoi andare. Non mi trassi tu, ma... Guarda, 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 guarda.